La pista numero uno Questa sera devi giocare lungo, devi dimostrare che sei il paletto del basso Anche la venerà all'età di 36 anni, 32, 37 Perché tu sei migliore, 40, 40 Iniziate quando vuoi, metto i tuoi piedi Apri gli altri gioco, vide la squadra, mi raccomando, si? Vado? Sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.